Le autorità militari, civili e religiose, donne e uomini della brigata Sassari sono emozionata, molto emozionata di essere qui oggi. Le associazioni combattentistiche e d'arma. La Sardegna è una terra generosa e la brigata Sassari è una delle espressioni più belle di questa generosità. Sappiamo quanto sia difficile e importante il loro impegno e ancora più pesante per chi li porta lontano dalla loro terra e per tanto tempo e di questo gliele siamo grati. Siamo tutti consapevoli di questa importanza e gli uomini e donne di questa brigata sono protagonisti di quello che possiamo considerare però uno dei grandi cambiamenti culturali di questo nostro tempo. Laddove prima ci si armava per la guerra, ora giovani come voi avete imparato a tenere per mano le popolazioni e a portare la pace. E' un orgoglio che questi giovani provengono proprio dalla nostra Sardegna. E oggi sono quindi particolarmente felice di poter essere io ad accoglierli e ad assistere all'avvicendamento tra il generale comandante Mario Scopinio e il generale Arturo Nitti. Ringraziamo il generale Scopinio e facciamo i nostri migliori auguri al generale Nitti nel ringraziarli ringraziandoli a nome del Presidente che oggi non è potuto essere qua, della Giunta e di tutti i Sardi perché continuano a portare nei paesi la nostra cultura, la nostra storia e anche la nostra economia. Grazie ancora.